Ciao a tutti guerrieri e guerrieri, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon, benvenuti in questo extra vlogmas che non doveva esserci, però l'ho fatto così ci togliamo subito il pensiero. Questa è la seconda parte dell'extra vlogmas, la prima parte, quindi non si parla di anime e di minecraft, ma del mondo Disney, perché è un unboxing Disney. La prima parte la trovate nella mia playlist, perché da quando non c'è il computer non posso metterne le schede su, quindi questo lo troverete nella playlist Sailor Vlogmas 2022. Parliamo di l'ultima parte del gioco di Calisota, io sono riuscito ad, io vi faccio vedere un po' quello che ho aperto, il packaging è favoloso, nella scatola l'avevo detto, ho sbagliato a dire che il portiere di Topolinia era un professor Zapotec, invece non lo è, nel tabellone ho scoperto che il professore è il dottore Enigma. Zapotec è uno delle pedine che c'è. Queste sono le carte Highlights, penso, che è un'uscita con paperino, queste sono le 20 carte quelle di Topolinia, queste sono le 20 carte di Paperopoli, carte delle regole, io non lo apro, lo vedremo un po', poi faremo un video dove apriamo tutti i mazzi di carte. Nella scatola esce l'istruzione del gioco, diciamo così, questi da mettere nei gettoni dietro, e poi esce questo mini pallone fantastico, esce anche questi, che sono le monete, i segnalibri, vedete? fantastico, io poi devo aggiungere ogni, questo per esempio, un editip-top dietro qui, perché quando c'è la munizione, quelli speciali, ve lo faccio vedere, già ce l'hanno, Amelia per esempio, vedete? Ah, oggi dovrebbe arrivare un pacco dal youtuber Nick Dukavomp, mi ha fatto un regalo di Natale, mi ha scritto su Instagram che oggi doveva arrivare. Allora, questa è la prima parte, per ora noi la chiudiamo qui, poi sarà un video dedicato solo a Calisota. Allora, devo dire la verità, Zapotec è uno dei giocatori che si trova qui. Allora, ora faremo la prima, la seconda parte. Il 5 dicembre esce l'ultima uscita del Paper Nick 6,50, le carte Highlights e le pedine speciali di Topolinia. Poi io questi qui ve li farò vedere in un altro video, tutti i giornali, tutti, come si dice, tutti i giornali che hanno ospitato, queste qui. Ora, per esempio, ok, anche qui c'è la carta. Io non so perché la Panini faccia così, vengo subito, le apro insieme a voi. Ragazzi, è un parto per togliere come sono sigillate, vedete come ho dovuto rompere. Allora, le carte Highlights di Paperopoli, di Topolinia, scusatemi. Vedete Paperinic con Super Pippo. Allora, ho scoperto da Wikipedia che anche Ciccio e Paperoga hanno dei alter ego da supereroi. Iron Ciccius, Ciccio fa riferimento a Iron Man, Super Pippo fa, dice Wikipedia, che fa la parodia di Superman con le noccioline, come braccio di ferro con gli spinaci. Gli danno questi poteri che sono limitati. e Paperoga è Paperbat, che sarebbe una parodia di Batman. Peccato che non sono stati inseriti, ovviamente non potevano mettere anche quegli altri due. Ciccio non compare, ma anche in Calisota. Paperoga sì, però compare come semplice. Gastone è strano che non abbia degli alter ego da supereroe. Vedete, in Gastone c'è anche lui. Io non le apro, le aprirò in un altro video. Queste sono le carte Highlights, penso, di Topolini. Molto bello Super Pippo e Paperinic che gli ruba il pallone. E a proposito, i gettoni, le pedine sono qui. Eccolo qui, Super Pippo, vedete quello lì, l'adessivo giallo è già attaccato. Mette a fuoco. Questa è macchia nera, sì. Le ho messe anche al contrario. Queste sono delle aggiunte, gamba di legno. Quando è a munizione, vedete. Allora, come funzionano? Ogni squadra ha questi tre in panchina. Hanno delle abilità magiche, come potete vedere dalla carta. Cioè, questi personaggi hanno delle tre carte. Ognuna, Amelia, Archimede, Paperinic, Super Pippo, gamba di legno e macchia nera. In campo si possono usare due. Per ogni squadra due di questi personaggi o uno. Mentre questo, uno dei tre deve rimanere in panchina, obbligatoriamente. E ora, io mi sto perdendo in chiacchiere perché dobbiamo aprire il tabellone. Il tabellone ora lo apriamo. In modo, aspettate, metto le piedine di Calisota qui. Se no, apriamo il topolino. Questo è l'ultimo che è uscito il 7 dicembre e qui ci dice la 750 che è proprio completo. Barbo l'aveva fatto vedere il tabellone. Io vi faccio vedere più i gadget e poi... Allora, il tabellone ora lo apriamo. Ok, c'è sempre questo problema che la carta, vedete, come la panini deve rovinare tutto. Torno subito. Ragazzi, ho tolto tutto per fare... Eccolo qui, il tabellone, ho tolto i giornalini che non è in questo video. E bianco sotto. Ma io l'ho visto uno dei portieri. I portieri, vedete com'è. Nonno Bassotto. Io vi faccio vedere così. Nonno Bassotto. Vedete come il portiere è attaccato al tabellone. Il tabellone è ben fatto. Molto sembra quei giochi... Anni 90. Io per esempio ho trovato lo Scarabeo Junior su Vinted. Me lo vuole uno vendere a 8 euro e qualcosa. Perché i miei guggini e Berro si giochi in quattro... O nel tabellone lo apro, eh. Questo è Calisota. Aspettate. Ah, eccolo qui. Lui è... Non ve lo faccio vedere così. Lui è Dottor Enigma. Non ho capito bene se è un personaggio buono o cattivo. Che dice che anche nel 1940 è comparso in una storia di Topolino. Il tabellone si presenta così. Vedete? Vedete? Ora vi faccio vedere. Il tabellone è così. Questi poi li scopriremo che cosa siano. Ora vi faccio vedere solo con l'oro. Questi sono carte speciali e si gioca. L'unica pecca che ha Calisota è questi così. Potevano fare... Pedine come se fosse nel Monopoli a personaggi. Secondo me sarebbe riuscito meglio invece di fare così. Allora qui non ho capito bene. Hanno dei significati importanti questi simboli. E poi ne scopriremo quando fa. Faremo. Allora qui che cosa? Il tabellone di gioco. Ora ve lo metto. Così in modo che... Allora. Eccolo qui. Qui si segna i gol. Come potete vedere. Qui vanno le 20 carte per Paperopoli. 20 carte per Topolino. E qui con... Qui si può giocare in tre modi. A tre. E poi a sei che è più difficile. Qui significa che... Il tempo. Non so che cosa. Ho visto da YouTube. Comunque Topolino e Paperino disegnati così. I giochi di Topolino. Io ero incuriosito più dalla... Paperoga. Ero più incuriosito... No da Paperoga. Da... E vedete. Sono oggettoni. Sono... Ero incuriosito da 24 ore di Paperopoli. Che è lo Scarabeo Junior del 92. Della editrice EG. Editrice giochi. Ora non mi ricordo chi l'aveva pubblica. Alcuni miei cugini. Io quando andavo a casa. Avevano sto Scarabeo. Con i personaggi Disney. E qui qua in versione Giovanni Marmotte. Sul tabellone. In altra parte. C'era Archimede. Anche addirittura Pico dei Paperis. Pico dei Paperis. Il dottore Enigma. Quello che avete visto qui sulla porta. Ha un accento tedesco. Parla con un accento tedesco. E io penso sia la versione di Topoligna. Di Pico dei Paperis. Ma non ho capito per quale motivo. Il dottore Enigma. Ha lasciato il pianeta Terra. Le sue esperimenti. I suoi lavori. Può distruggere il mondo. E' comparso nel 1940. Il dottore Enigma. E' una storia. Il protagonista. Donald Duck. Poi. Non si sa. Il dottore Enigma. Perché è stato scelto come portiere. Quindi io non capisco. Se è un personaggio negativo. Come Gamba di Legno. Macchia Nera. Super Pippo no. Perché è un personaggio buono. Pensate che Super Pippo. Ha una storia. Con la strega nocciola. Sapete che Pippo. Non creda alla magia. E quindi. Devo dire la verità. Calisota. E' un bel gioco. Sono molto contento. Di aver avuto per la prima volta. Questo gioco. Un gioco da tavola. E. Anche 24 ore di Paperopera. Comunque. E' molto bello. Il packaging. Di entrambe le scatole. Però. Le pedine. Preferisco. A differenza di 24 ore. La. Calisota. Però. Come dico sempre. Potevano evitare. Di fare. Queste. Pedine. Perché. Potevano fare i personaggi. Però. Essendo un gioco da tavola. Perché c'è la munizione. E quindi. Non potevano fare con. I personaggi. Come erano i scacchi. Così. E quindi. Hanno dovuto fare così. Comunque. Sono molto belli. I speciali. Anche questi. Molto belli. Lo apriremo a gennaio. E' un video. Dove. Ci sarà una terza parte. Ma non fa parte. Delle extra vlogmas. Un video dedicato. Tutto a Calisota. E' un altro video. E' l'unboxing. Dei giornalini. Che vedrete. Insieme. A Calisota. Che erano. Ospitavano Calisota. Oggi uscirà il super crossover. Io lo chiamo crossover. La collaborazione con lo youtuber. Maki ML. Dopo che avevo registrato la prima parte. L'extra vlogmas. Mi mandò. L'email. Su Instagram. Dicendo che mi aveva mandato l'email. Il video. Sono riuscito. E sono molto contento. Voi. Questo lo vedrete dopo l'ultimo vlogmas. Ve lo ripeto anche qui. Buon Natale. Buone feste. Poi ci vedremo. Prima del capodanno. Vi farò gli auguri. Se erano un fan. Si affidate ad Amazon. Il mio secondo canale. IrandomTumberBoys. Il mio blog. Il blog del SailorTeam. Li trovate tutti nell'info box. From the Mammate Channel. A Chiara Acio. Greco. Sergio Livorsi. Anche se non fa parte del team. Se volete andare a vedere anche lo youtuber. Maki ML. Lo trovate nel video collaborazione. Prima un vlogmas.2. Voi trovate tutti. Su Instagram. E il suo. Canale YouTube. L'ho messo lì. Quindi. Ora vedremo un po'. Solo metterò anche qui il canale YouTube. Di Maki ML. Ciao ragazzi. Fui c'è. Fui c'è. Fui c'è. Fui c'è.